Ma c'è un posto un po' più all'ombra, ma questo è il cimitero, ma pure un attimo Paola. Sì, sì, va bene. Ah no, si vede la torretta, soltanto, è tutta nascosta. Nascosta dai pini, dai cipressi. Sì, qui c'è il cimitero. Questo è il cimitero. Mi chiedo come mai in questo momento sono qui. Quale senso per me di stare qui di nuovo? Io sono colpita dalla bellezza e dalla felicità che mi ha dato questo posto. Io non riesco in questo momento… Io mi faccio la domanda, ma non ho risposta. Però sento che non è un caso che oggi, in questo momento, tramite amici, io sono qua. e prendo contatto con qualcosa di importante. L'importante è per me, oggi. e ho un desiderio di prendere contatto, di vedere la casa, di… Io ho di salutarla, di venire qui, salutarla ma venire con tutto il mondo che sa. Vengo qui e so che venendo qui anche altri, soprattutto i tedeschi e i fascisti, sappiano di quello che è successo. Che non sia avvenuto così, di nascosto, come se fosse una cosa normale. No, non è stata una cosa normale. Grazie. Grazie.